La Tina, trovata morta alla nissena di Ana Scarpulla, disposta all'autopsia. Guardia di finanza, sequestri per oltre 3 milioni di euro e 13 ordinanze cautelari emesse nel corso delle indagini preliminari. San Cataldo, rapina, si costituisce un 39enne, nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Centro di Pian del Lago, i lavoratori chiedono attenzione, i sindacati scrivono al perfetto. Elezioni nazionali e regionali, la guida al voto del 25 settembre. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. La Tina, trovata morta in casa alla nissena di Ana Scarpulla, disposta all'autopsia. Addestato stupore e commozione in città, la notizia della morte della nissena di Ana Scarpulla, 53 anni, che da qualche anno lavorava come cancelliera dell'ufficio Jeep Group al tribunale di Latina. La donna è stata trovata morta in casa sua dopo che i colleghi del Palazzo di Giustizia, non avendola vista arrivare al lavoro, si erano preoccupati cercando di capire se fosse successo qualcosa. Poi la tragica scoperta. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un decesso per cause naturali, anche se la procura di Latina ha disposto all'autopsia sul corpo della donna per stabilire con precisione cosa abbia causato la morte. Secondo quanto emerso finora, De Ana Scarpulla negli ultimi giorni aveva accusato un forte mal di testa e chi l'ha incontrata aveva notato un gonfiore agli occhi, tanto da dover ricorrere alle cure di un medico che le aveva prescritto dei farmaci. In passato aveva anche avuto dei problemi di salute. De Ana Scarpulla era conosciuta in città per avere svolto fino a pochi anni fa la professione di avvocato penalista, lavorando a lungo nello studio dell'avvocato Salvatore Daniele, decano del Foro Nisseno. Guardia di Finanza, sequestri per oltre 3 milioni di euro e 13 ordinanze cautelari emesse nel corso delle indagini preliminari. Attività intestate fittiziamente ad altre persone per ottenere i contributi europei, aggirando la normativa antimafia e ripulendo anche il denaro tramite operazioni illegali come l'emissione di fatture false e anche l'appropriazione di pascoli demaniali, sempre per percepire i fondi comunitari. Ruota intorno a questo contesto l'operazione della Guardia di Finanza di Enna che ha portato all'arresto di 13 persone, 7 in carcere, 6 domiciliari, tra cui figurano anche un avvocato del Foro di Catania e l'ex direttore dell'azienda speciale Silvio Pastorale di Troina. I militari della Guardia di Finanza, su disposizione del GIP di Caltanissetta, hanno anche sequestrato somme di denaro, società e aziende per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Diversi reati contestati a vario titolo agli indagati, interposizione fittizia, truffa, falso e reimpiego di capitali illeciti per una serie di episodi che riguardano le zone di Centuri per Regalbuto, Troina, Adrano, Catani e Randazzo. Secondo la ricostruzione dei magistrati della DDA Nissena che hanno coordinato l'inchiesta, gli indagati erano riusciti a ottenere indebitamente l'accesso agli aiuti comunitari e poi, tramite operazioni di ripulitura del denaro di provenienza delittuosa, come ad esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a rientrare nella disponibilità delle stesse ricchezze. Gli investigatori inquirenti hanno anche parlato di attribuzione fittizia della titolarità di aziende e proprietà immobiliari. Inoltre, gli indagati, grazie alla complicità dell'ex direttore della ditta Silvio Pastorale di Troina, erano riusciti a ottenere l'accaparramento incondizionato di pascoli demaniali per un totale di oltre 1.181 ettari per continuare a percepire fondi pubblici senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, aggirando fraudentemente le regole previste dal codice antimafia. I corrispondivi previsti dai contratti sarebbero stati frazionati al fine di eludere il codice antimafia che prevedeva una soglia di 150.000 euro, oltre la quale risultava obbligatorio per la pubblica amministrazione richiedere l'informativa antimafia, che nel caso di specie avrebbe certamente impedito l'accesso alle assegnazioni dei pascoli ad alcuni degli indagati, così come infatti è accaduto. San Cataldo, Rapina, si costituisce un 39enne e nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Ha deciso di costituirsi, presentandosi spontaneamente alla casa circondariale Malaspina di Caltanissetta, il sancataldese Michele Amico, 39 anni, nei cui confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di avere rapinato e causato lesioni a un amico per rubargli 980 euro. Amico non era stato catturato subito dai carabinieri, in quanto era risultato irreperibile, tanto che in manette era finito soltanto il secondo indagato, il sancataldese Gioveanni Piazza, 52 anni, nei cui confronti il GIP ha disposto gli arresti domigiliari. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due indagati e il loro amico si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di San Cataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a Canicattì. Nel corso del tragitto, Amico, alla guida della vettura, aveva arrestato la marcia mentre percorrevano la statale 640 Caltanissetta Grigento, all'altezza della zona di Favarella, dove sorgeva il bullying Italia. E quindi, sempre secondo la tesi investigativa, aveva preso dal cofono una mazza. E poi sia lui che Piazza avevano iniziato a colpire il passeggero, sferrandogli anche dei pugni. A quel punto, sempre secondo l'accusa, Piazza aveva sfilato il portafoglio alla persona offesa, prendendo i 980 euro costuditi all'interno. La somma era stata ritirata come pensione di accompagnamento per il figlio disabile della persona offesa. I colpi ricevuti hanno causato alla vittima trauma e contusioni alla testa e anche agli arti. Poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a San Cataldo, nella zona dove aveva lasciato la propria auto. E questi si era subito recato alla caserma dei Carabinieri per presentare denuncia. E ancora cronaca, alcolici a minorenni. Sentiamo i dettagli nel servizio. Denunciata la locale procura della Repubblica dalla Polizia di Stato e il titolare di un locale a San Cataldo per il reato di somministrazione di alcolici a minori. I poliziotti della divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta hanno effettuato durante il weekend controlli in diversi esercizi commerciali nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell'assunzione di alcol da parte dei minori. I poliziotti recatisi all'interno dell'esercizio commerciale sancataldese e munito di regolare licenza per intrattenimento danzante avrebbero notato un mancone nel quale si somministravano bevande alcoliche e un assembramento di giovani in fila per l'acquisto delle bevande alcoliche per l'appunto senza che la persona preposta alla vendita e somministrazione richiedesse un documento per verificarne l'età. Tentato furto segnalata una giovane a Caltanissetta I poliziotti delle volanti hanno denunciato a piede libero in procura una giovane di 20 anni per tentato furto aggravato di liquori e formaggio in un supermercato Ieri mattina gli agenti dopo una chiamata al 112 sono intervenuti in un supermercato di via Due Fontane dove la giovane era stata sorpresa a trafugare della merce I poliziotti hanno identificato la donna che ha alle spalle altri precedenti sempre per furti in supermercati la quale poco prima era stata fermata dai componenti della sicurezza dell'attività commerciale insospettiti dall'atteggiamento dell'indagata Al controllo il risultato che la donna si era impossessata di tre bottiglie di liquore Baileys Original e di tre confezioni di parmigiano reggiano da 700 grammi ciascuna nascosti nel doppio fondo di un passeggino modificato artigianalmente La merce è stata sequestrata e restituita al negozio La donna è stata quindi identificata e denunciata Ora si attende la chiusura dell'indagine E torniamo a parlare dei lavoratori del centro di Piannellago ancora una volta arretrati per quanto riguarda le loro retribuzioni e dunque i sindacati scrivono al prefetto Si ritroverebbero ancora una volta in attesa delle proprie retribuzioni i lavoratori del centro di Piannellago una situazione che si era presentata nei mesi passati e che era stata però risolta e adesso torna a preoccupare i sindacati che insieme Cisle Funzione Pubblica Agrigento Caltanissetta Enna Wiltemp Provinciale Flaica Cub Regionale e Comfsal Snalb Provinciale chiedono un incontro al prefetto di Caltanissetta Nel documento fanno riferimento anche alla possibilità di attingere i FIS fondi integrativi salariali e preannunciano che in mancanza di riscontro nei successivi cinque giorni si legge non si escludono azioni conseguenziali purtroppo anche noi pensavamo di avere risolto il problema ed eravamo più che mai tranquilli ad oggi invece due mensilità non sono state pagate anzi si sta compiendo la terza mensilità e questi colleghi ancora non hanno avuto pagato lo stipendio per questo ci siamo rivolti nuovamente a sua eccellenza il prefetto richiedendo un incontro urgente per capire lo stato dell'arte per capire a che punto siamo noi speriamo che anche questa volta sia la prefettura a pagare i colleghi perché sembrerebbe che la ditta abbia dato l'autorizzazione a questo provvedimento chiaramente per non averlo fatto l'ufficio ha i suoi le sue giustificazioni noi vorremmo capire a che punto siamo è altrettanto vero che siamo pronti a ripetere nuovamente uno sciopero perché non hanno le condizioni quelle mensilità che hanno ricevuto sono servite soltanto a pagare i debiti adesso nuovamente alcuni di loro hanno l'energia elettrica tagliata interrotta non riescono a prendere la macchina senza l'assicurazione quindi devono scendere a pian dell'acqua a piedi è veramente nuovamente una situazione tragica sono circa 25 famiglie perché è chiaro che non prendendo lo stipendio loro soffrono sia loro che le loro famiglie eppure assicurano il servizio noi non ci siamo mai manco resi conto dei migranti che sono in città perché il loro il loro ruolo lo svolgono sia all'interno del centro che all'esterno quando li incontrano massima attenzione nei confronti della questione da parte della prefettura ci fanno sapere si stanno valutando infatti le possibili opzioni per risolvere la problematica in tempi brevi e far sì che i lavoratori ricevano le retribuzioni anche la società che gestisce il servizio è stata contattata dalla nostra redazione telefonicamente e rimaniamo a disposizione per un'eventuale replica è stata danneggiata l'area verde presente nel quartiere San Luca si tratta del giardino della legalità e dunque sono intervenuti nuovamente i componenti del comitato di quartiere si sono nuovamente rimboccati le maniche i componenti del comitato di quartiere per mantenere in buone condizioni il giardino della legalità ancora una volta hanno cercato di rimediare i danni registrati nell'area verde presente nel quartiere San Luca come avvenuto nei giorni scorsi per restituire ai cittadini un luogo piacevole dove passeggiare e passare del tempo all'aria aperta mentre è già stata risistemata ad esempio la casetta del libro risultano ancora danneggiate le fioriere a forma di trenino che fanno parte delle installazioni realizzate grazie al progetto verde comune dell'associazione Casa Rosetta e che erano state collocate a fine 2021 nel giardino continuano a distruggere quello che di buono fanno le persone non solo di buona volontà e volontari ma quello che fanno i ragazzi con disabilità con tanto amore infatti sono stati qua in questi mesi sia il carrettino sia il trenino in bella mostra c'è un afflusso di persone che arrivano da tutta la città addirittura ho visto anche famiglie che vengono da San Cataldo e fa rabbia quando non c'è il rispetto per la cosa pubblica per fortuna nel comitato di quartiere ho con me una squadra eccezionale dei grandissimi amici dei grandi volontari pieni di buona volontà che qualsiasi problematica fino adesso c'è stata siamo riusciti a risolverla e le telecamere per fortuna sono attive però abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco e abbiamo chiesto di incrementare ulteriormente appunto la videosorveglianza intanto le iniziative del comitato proseguono in occasione di questo bello spettacolo inaugureremo il quarto il quarto murale dedicato a Peppino Impastato noi stiamo lavorando con grande passione e speriamo tanto che questo lavoro possa premiarci nel senso che cerchiamo di dare una qualità della vita il meglio possibile alla comunità di San Luca ormai è vicina la data del 25 settembre durante la quale si svolgeranno le elezioni nazionali e regionali e dunque sentiamo i dettagli per quanto riguarda la guida al voto conto alla rovescia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre per il rinnovo del Parlamento Italiano e quindi dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in Sicilia si voterà anche per l'elezione del Presidente della Regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana le operazioni di voto si svolgeranno tra le 7 e le 23 di domenica lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14 il sistema di voto per le elezioni politiche prevede un misto tra proporzionale e maggioritario l'elettore avrà una scheda per la Camera di colore rosa e una per il Senato di colore giallo sulle schede sono indicati i nomi dei candidati al collegio maggioritario uninominale aggregati per coalizioni sotto ciascun nome sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano fino a 4 candidati per il collegio proporzionale plurinominale il cittadino può votare soltanto per l'uninominale se lo desidera e in questo caso gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto se vuole votare anche per il plurinominale traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale non è possibile esercitare il voto disgiunto non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato ma ne appoggia un altro in questo caso la scheda verrà considerata nulla per quanto riguarda le elezioni regionali la scheda è unica l'elettore dispone di due voti e può esercitare il voto disgiunto un voto è per la scelta della lista regionale il cui capolista è candidato alla carica di presidente della regione e un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata essendo previsto il voto disgiunto l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per uno dei candidati a ricoprire i 70 posti dell'ARS una preferenza per un candidato alla presidenza della regione appartemente a uno schieramento politico differente fino a domenica prossima gli uffici elettorali comunali resteranno aperti dalle 9 alle 19 per consentire ai cittadini di richiedere la tessera elettorale qualora l'abbiano smarrito o debbano rinnovarla entro il 22 settembre gli elettori detenuti o ricoverati nei luoghi di cura dovranno far pervenire al sindaco del comune di residenza la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione o di degenza parliamo del servizio di distribuzione idrica interventi sull'acquedotto fanaco rimodulata la distribuzione a Delia e Sommatino per la giornata di oggi non sarà garantita la fornitura regolare di acqua Sommatino e Delia unica eccezione in quest'ultimo comune riguarda le utenze della zona alta dove la distribuzione sarà garantita grazie alle fonti proprie del gestore del servizio lo ha reso noto l'azienda Caltacqua che gestisce la distribuzione dell'acqua nella provincia di Caltanissetta a seguito di una comunicazione del fornitore di sovrambito Siciliacque in merito all'interruzione dell'attività del secondo tratto dell'acquedotto fanaco dove si sono resi necessari tre interventi di manutenzione urgente Siciliacque ha stimato la conclusione degli interventi iniziati nella prima mattinata di oggi in 12 ore circa e considerando i tempi necessari al riempimento e alla sanificazione della condotta prevede di ripristinare la fornitura entro le 4 di giovedì 22 a Delia ed entro le 12 sempre di giovedì 22 a Sommatino Caltacqua inoltre renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili Si avvicina la processione in onore di San Michele e Santo Patrono della città che si svolgerà a Caltanissetta giovedì 29 settembre Da oggi iniziano i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo Santo Patrono della città di Caltanissetta con l'intronizzazione del simulacro e l'inizio dell'ottavario Nei giorni a seguire in cattedrale ci sarà il pellegrinaggio da parte di alcune parrocche e associazioni della città Giovedì partiranno le parrocchie di San Pio X e San Luca venerdì Santa Flavia sabato Casa Famiglia Rosetta domenica Sant'Agata e rinnovamento dello spirito per concludersi lunedì con le parrocchie di Santa Croce San Giuseppe San Marco e Santa Barbara Da martedì 27 settembre alle 7.30 del mattino per tre mattine sino al 29 verranno sparati i consueti 21 colpi di cannone e nel pomeriggio del martedì la solenne messa pontificale del 19esimo anniversario dell'ordinazione episcopale del vescovo Monsignor Mario Russotto mercoledì 28 settembre l'ultimo pellegrinaggio delle parrocchie di Santa Croce San Giuseppe Santa Lucia San Domenico e Sacro Cuore il 29 settembre dopo i colpi di cannone alle ore 8 9 12 ci saranno le sante messe in cattedrale con quella delle ore 10.30 presediuta dal vescovo alla presenza delle autorità civili e militari e della polizia di stato nel pomeriggio alle ore 18.30 Santa Messa celebrata dal vicario generale Monsignor Onofrio Castelli e a seguire la processione del simulacro e a finire i fuochi d'artificio dal cortile della chiesa dell'abbadia omaggio della città al santo patrono In più ci sei tu la Croce Rossa italiana cerca nuovi volontari dai 14 anni in su Come consuetudine la Croce Rossa italiana di Caltanissetta diretta dal presidente del consiglio direttivo Nicolo Piave si accinge a reclutare nuovi volontari per le sue molteplici attività sul territorio con la campagna In più ci sei tu Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa che avrà inizio il 19 ottobre 2022 denominato corso di formazione per volontari della Croce Rossa italiana rivolto a tutti coloro che hanno compiuto il 14esimo anno di età il corso della durata di 26 ore di cui gran parte in modalità online in orari serali oltre il tirocinio pratico si svilupperà in sette moduli teorico pratici con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia dell'associazione far comprendere il ruolo del volontario la sua azione attiva sia locale che nazionale e sensibilizzarlo alla cultura dei valori del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa al termine del corso coloro i quali hanno regolarmente frequentato saranno ammessi agli esami e superati questi al relativo tirocinio chiunque fosse interessato può iscriversi compilando il modulo sul sito diventa un volontario comitato di Caltanissetto dv cri.caltanissetta.it ed iscriversi online La Croce Rossa di Caltanissetta come ogni anno attiva i due corsi di formazione è venuto il momento di attivare il corso per il mese di ottobre iniziamo giorno 19 qui a Caltanissetta il corso sarà interamente online rivolto a tutti i cittadini che vogliono entrare a far parte di questa organizzazione internazionale quindi dai 14 anni a salire quindi fino anche a 90 anni senza nessun problema e reclutiamo attraverso la richiesta di un modulo che si trova in segreteria all'istituto Testa Secca in via della Regione 1 la frequenza di un corso la durata di 26 ore di primo soccorso di conoscenza della Croce Rossa diritto internazionale umanitario attività sociali per mettere a disposizione il proprio tempo a favore degli altri Sport Calcio al Palmintelli si è conclusa 0 a 0 la partita fra Nisse Santiciro e Giorgio di Marineo recupero della seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A un incontro dominato soprattutto dal nervosismo fra due squadre ancora a caccia della prima vittoria un risultato che alla fine sta più stretto ai biancoscudati che alla vigilia del match speravano di voltare pagina dopo due sconfitte di fila per la squadra di Marineo un punto importante in chiave salvezza la classifica la classifica giornata del campionato di eccellenza Girone A dunque Acragas e Sciacca 9 Don Carlo Misilmeria e Enna 7 Casteldaccia Cus Palermo e Profavara 6 Mazzarese 5 Mazzare Parmonval 4 Oratorio Santiciro e Giorgio 2 Nissa 1 Leonfortese 1 Gela Resuttana San Lorenzo e Castellammare 0 La Nissa tornerà in campo domenica 2 ottobre per la quarta giornata contro la Parmonval il quadro completo delle altre partite in programma Casteldaccia Acragas Don Carlo Misilmeri Gela Enna Cus Palermo Leonfortese Mazzarese Mazzara Profavara Resuttana San Lorenzo Castellammare Sciacca Oratorio Santiciro e Giorgio Bene era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità grazie per averci seguito Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì avremo un contesto anticiclonico sul nostro paese ma con un flusso di correnti umide orientali che determinano un po' di instabilità all'estremo sud soprattutto vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede di fatto l'Italia alle prese con il sole su gran parte del nostro paese mentre al sud insisteranno gli addensamenti specie tra Calabria e Sicilia più nel dettaglio dello zoom delle precipitazioni notiamo come i piovaschi sono attesi proprio tra la Sicilia più orientale parte del Regino mentre il resto del nostro paese vedrà condizioni di tempo asciutto passiamo quindi al tempo atteso sul nostro paese avremo sole protagonista un po' ovunque al centro nord ma anche sul basso versante tirrenico qualche piovasco atteso tra notte e mattina tra Romagna e Marche ma comunque fenomeni molto localizzati mentre il tempo sarà un po' più instabile sulla Sicilia orientale ma anche sul Regino qui con rischio pioggia un po' più concreto temperature molto frizzanti al mattino valori termici che di giorno raggiungeranno i 20-22 gradi punte superiori sulle isole maggiori tutti i dettagli sull'app gratuita di Trapi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Romano Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Marrocco Via Rosso di San Secondo